Suo padre era un carabiniero, però Nick non voleva restare a casa, lo voleva sempre seguire. Si portava la sua valigetta piena di colori e di pennelli e dipingeva murales sui paesi che visitava. Loro ci parava e lui dipingeva. Ci vuole coraggio a essere ragazzi miei così. Aspromonte Aspromonte L'ombra lucente e la luce è uno degli elementi fondamentali dell'Aspromonte. Notare anche l'uso sapiente dei colori che creano una tridimensionalità nell'opera che quasi esce dal quadro. Tutte le persone che vengono qui la prima volta hanno questa sensazione spirituale. È una sensazione molto difficilmente replicabile che si avverte direttamente tutte le volte che si viene al museo. Il museo è monumentale. Tutto è diventato tridimensionale. Io ho un mosaico tridimensionale ma è questo. La nostra vera identità, la nostra vera bellezza e la nostra vera faccio un cantesimo eterno, infinito. Dio 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 Grazie a tutti.